Attivato un percorso per facilitare il trattamento precoce dei pazienti positivi al covid, il ricorso agli anticorpi monoclonali, come da indicazioni regionali, potrà diventare un'opzione di valore per le persone sintomatiche ad alto rischio. In Ulsa e Dolomiti la terapia contro il covid attraverso l'uso dei monoclonali ha preso avvio già in marzo e ad oggi sono state somministrate dal reparto di malattie infettive di Belluno oltre 50 dosi. I monoclonali, specifica l'azienda sanitaria, sono anticorpi IgG1 che neutralizzano la proteina spike di SARS-CoV-2 impedendone il legame con il recettore ACE2, prevenendo così il successivo ingresso virale nelle cellule umane e di conseguenza la replicazione virale. Con un parallelismo, il farmaco fa quello che una pista a tagliafuoco fa per una zona boschiva, impedisce che l'incendio si propaghi a livelli incontrollabili. Tornando ai monoclonali, è dimostrato che un trattamento tempestivo riduce il rischio di ospedalizzazione e la carica virale, abbattendo quindi anche il rischio di trasmissione. Per questo già nell'attività di contact tracing il Dipartimento di Prevenzione fornirà indicazioni circa il trattamento e i contatti delle malattie infettive di Belluno per la richiesta di somministrazione che sarà valutata dal team del reparto. Per richiedere la somministrazione si può scrivere all'indirizzo malattieinfettive.monoclonali-aulsuno.veneto.it La somministrazione avviene per via endovenosa della durata di circa un'ora con una successiva ora di monitoraggio, visto che il farmaco ad oggi non ha ancora ricevuto l'autorizzazione definitiva da EMA. Il paziente, terminata la somministrazione e il monitoraggio, può ritornare a domicilio per continuare l'isolamento fino alla negativizzazione del tampone e alla ripresa delle normali attività.